La storia che sto per raccontarvi è tra le più cruente. Parla di un pianeta nato per la pace, ma corrotto dall'oscurità. La corruzione trasformò qualsiasi cosa che toccò in pura malvagità. Anche gli animi delle persone più pacifiche non riuscirono a resisterli. Questa storia inoltre parla di una persona corrotta, che diventò leggenda riuscendo a manipolare la corruzione e a cambiare il destino. Ma partiamo dal principio. C'era una volta, in una dimensione molto diversa dalla nostra, un pianeta appena nato, di nome Vexonir. Le prime forme di vita sul pianeta manifestavano un grande rispetto per il luogo dove erano nate. Vivevano in pace e armonia, facendo di tutto per preservare l'ambiente che li aveva ospitati. Uno tra loro era Snake. Era felice di vivere in un mondo con così tanta pace e tranquillità. Ma anche lui, come tutti gli altri, era ignaro su ciò che stava per succedere.